Questo monumento è dedicato al soldato alleato caduto sulla linea gotica, in quanto in questa zona hanno combattuto dal settembre 44 all'aprile del 45 soldati degli eserciti statunitensi, inglesi e brasiliani e hanno combattuto soprattutto che quella linea di fortificazione tedesca nota come linea gotica. Questo soldato rappresenta Sadao Munamori. Sadao Munamori, the first Japanese American soldier to receive the Medal of Honor, lost his life at the Gothic line. When an enemy grenade landed in front of his comrades, Munamori threw himself on top of the grenade to save his comrades and sacrificed his own life. Achievements of the Japanese American soldiers are highly recognized in France and Italy. I think good soldiers have direction, they follow rules and regulations, they certainly understand standards. But what distinguishes great soldiers from good soldiers is motivation. And the soldiers of the 440s... ... ... Grazie a tutti